Benvenuti nella challenge dove staremo abbracciati per 24 ore perché siamo dei pazzi Sìììì! Non sei felice? No non lo sono per niente Perché? Perché mi guardi così? È molto, molto stancante Sì, è molto stancante Non provare a lasciarmi eh Io non voglio perderla assolutamente questa challenge Perché se non sarai un falsacchiotto Ok, comunque Vai Un saluto a Ninna E da Matti Benvenuti appunto in una challenge molto affettuosa diciamo dai Siamo qui carini tutti abbracciati Ma poi siamo pure tutti e due rosa ma è una coincidenza Dovevamo stare attaccati per forza allora Solo che se permetti la mia maglietta è molto più bella perché è quella nuova del merchandising di Matti Che trovate in descrizione Ragazzi neanche me l'hai regalata a me È vero, me l'ho dimenticato Comunque come avete capito oggi dovremmo stare Cosa stai facendo? Giro tondo Dovremmo stare per 24 ore Abbracciati Il problema non è lo stare 24 ore abbracciati Il problema è che è tipo il 20 agosto E tipo fa caldo Esatto Però insomma Ce la faremo Fidati Ora io dato che non mi sento più già il braccio prendi la fotocamera Sì E ce ne andiamo sul divano a riposarci un pochino Io comunque ho sempre questa mano qua Esatto Abbiamo L'importante è stare sempre attaccati In questo Non ci stacchiamo Ninna Piano piano Che piadina Aspetta Aspetta un minuto Che cosa fai? Aspetta su Nina Cadiamo Mamma mia Ma tu sei pazza Cosa dovremmo fare ora che siamo qui? Non ci possiamo alzare più te lo dico Ah ho un'idea Eh Grazie No 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 Perché no Partiamo male Io te lo dico Questa challenge non la concludiamo bene Chiedi no Tu cosa ne pensi? Cosa ne pensi di tutto questo? Siete dei pazzi Ok grazie Ok Questa è la situazione Provate a fare questa challenge con una persona che volete bene E non vi vorrà più bene Con una persona che volete bene Beh sì A cui volete bene A cui volete bene E ma sai tutto questo affetto non mi ci fa capire più niente Non mi ci fa capire Oh Cosa ho detto di sbagliato? Scusa Che ho detto di sbagliato? Oggi il tuo italiano è pessimo Ma cosa? Va bene va bene Ora parlo in inglese Comunque guardate un po' Pure le mie ci ha fatto sono rosa Comunque ve lo giuro Ah no I giuro you This is not Deciso prima Cioè Aspetta Non è stato deciso prima Del rosa E' tutta una casualità E' la prima volta che siamo così rosa Anche quella è rosa Potremmo dipingere pareti di rosa Mentre siamo abbracciati No no Non penso sia il caso Ninna Meglio non rischiare Intanto abbiamo fatto svegliare Pia Ninna E questo è un gran problema Se si arrabbiamo noi E' finita Alziamoci da qui va Piano piano con calma Come? Allora aspetta Ok L'importante è stare abbracciati L'importante è stare Abbracciami tu Devo spussare il braccio Perfetto Ok Perfetto Io in realtà Ho un po' di sete Quindi mi sta dicendo Che dovremmo andare in cucina Sì Però se tu mi abbracci Ti porto io Va bene Quindi così Sì Andiamo Vai No Non è affatto ciò Che pensavo di fare Oggi Devo essere sincero Però va bene Cosa pensavi di fare oggi? Ma magari giocare un po' alla play Andare al mare Potremmo giocare alla play No Ok No 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 Meglio di no Roppiamo tutto così Vabbè prendi l'acqua intanto va Ok Forse meglio che ti tengo io la fotocamera E tu bevi Ecco siamo abbracciati ovviamente Sì però vorrei bere anche io Scusa non puoi bere soltanto tu 24 ore senza bere Non è la cia Ninna 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 Dammi subito l'acqua Ma non ho bevuto No Aspetta Aspetta Non ho bevuto Beh allora dovete sapere che succede anche che litighiamo no Magari in una settimana ci sa che una volta litighiamo Quindi ora abbiamo litigato L'ho deciso io Va bene allora sai che ti dico Non ti parlo più Siamo arrabbiati Ok Abbiamo litigato Ok Vabbè dai basta fare i falsacchiotti Ninna non mi hai dato l'acqua Ci sono rimasto molto male eh Costanza Io invece ho voglia di cambiarmi la maglietta Voglio vedere se ci riesco anche da abbracciato Oh se dobbiamo passare 24 ore almeno facciamo qualche gioco divertente no Andiamo Andiamo Dobbiamo salire al piano di sopra Esattamente l'armadio si trova al piano di sopra Esattamente lì Quindi dobbiamo provare a salire da abbracciati in questa scala a chiocciola Vediamo Allora concentrazione Io mi metto così Siamo ovviamente sempre abbracciati Ora io salgo E tu anche fai un passo Proviamoci Allora uno Due Ok Uno Due Attenzione Ok Ok saliamo Vai Perfetto Non male direi Mamma mia Non ci vedo più Come non ci vedi più Sono qui Ciao Ciao Ragazzi questa cosa è molto rischiosa Che abbracci le gambe Ok abbracciami le gambe Basta che non cadiamo e non ci stacchiamo eh Ok Sembra tutto ok Ninna ma ci sei ancora Ho il tuo sedere in faccia Ok saliamo ancora E ok Bene io sono arrivato Oh mamma mia Paura di rompere qualcosa Ok andiamo in camera Ok Eccoci qua Allora L'armadio è quello Dobbiamo aprirlo Vabbè dai non è difficile Siamo riusciti a salire delle scale Ora pensa se ci arrendiamo per colpa di un armadio Oh mamma mia Ok non ci ho lasciato Che maglietta vuoi? Voglio voglio Quella quella verde voglio Aspetta ma come fai a cambiarti? Ehm Allora ragioniamo Se io metto una manica dentro Ma devi toglierti questa Ah eh non lo so Ora ci provo aspetta Non mi lasciare eh No Perché tanto ti sto abbracciando anch'io però Ok Non è facile perché adesso io Non so Sono bloccato Cioè non posso lasciare Sono incastrato Non respiro più Ok ti sto tenendo io Puoi lasciare il braccio Ok faccio veloce Allora facciamo così Ok perfetto Ora mi dovresti dare l'altra maglietta Non lasciarmi No te la metto io Tu abbracciami Ok quindi ora ti abbraccio io E tu mi metti la maglietta Esatto Ma è molto brutta questa cosa Aspetta Non è affatto comodo Non me la mettere Ma mi dai un pugno Perché Ok ora devi abbracciarmi tu Aspetta Ok abbracciami Aspetta Ma cosa fai Ma Ninna Ma che fai Te la sto mettendo Te la sto mettendo Ma cosa fai Ninna Ma dai non ci credo Come faccio Come faccio ad abbracciarti Ah ok ora ti abbracciarti Mi hai bloccato le mani Sono incastrato Vai Non voglio più giocare a questo gioco Non vuoi abbracciarmi? No non ce la faccio più Non mi mettere intanto la maglia Una manica E due maniche Direi che un po' di riposo Adesso potrebbe farci bene Che ne dici? Non ce la faccio più a stare in piedi Sei una vecchia persona Una vecchia persona? Che cosa vorresti dire con questo? Perché sei un po' vecchio Ti vuoi sempre riposare Vabbè riposiamoci un pochino Fidati Ce la possiamo fare E come? Ma che ci vuole? Dai guarda Matti 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 Basta fare così Ok Perfetto Non possiamo muoverci da così Ma in realtà ci siamo messi Abbastanza bene no? Sei sopra il mio braccio E' vero? E tu sei sopra il mio? Si ma tu pesi Nel senso che la tua schiena pesa Il mio collo non può pesare Come la tua schiena Ah ok Eh vabbè Fa niente Si addormenterà il tuo braccio Ma almeno Matti Sappiamo tutti che non stai dormendo Sei un passacchio Si vabbè Vabbè Si Che cos'era? Era un fischio? Vabbè Ti devo dare una brutta notizia Cosa? Sai che ho bevuto no? Hai bevuto l'acqua prima Lo so Beh sa che quando bevo poi devo fare pipì Ma non è questo il momento di fare Eh questo è il momento Non ci voglio credere Si Vai da sola Come faccio? Vabbè intanto andiamo e vediamo Alzati Alzati Non ce la faccio da solo Alzati Alziamoci Uno Due Tre Oh ma è stato più facile Perfetto Oh oh C'è un intruso Scusi posso passare? No Ti ho preso la mia piede Andiamo andiamo di corsa Di corsa Corri Oh no Mi sacrificherò io per te Ok Ci ha lasciato stare Meno male Ok il bagno a destra Ma diciamo che non è molto grande questo bagno No Per due non è proprio la cosa migliore Eh Ok E ora Io ti abbraccio Si Hai detto che devo sedermi sopra di te Si quindi continua ad abbracciarmi Ok Ora Aspetta ora Io ti abbraccio E tu giri Io giro Dove devo andare? Qua così Non sto capendo Ah ok Ok siediti Mi siedo E siamo in bagno Però non ci ho detto una cosa Non riesco a fare pipì con altre persone E come devo fare? Eh Non lo so Non la faccio Non la fare Andiamocene via Ok Non posso andare in bagno Quindi niente Quindi si gioca alla playstation Dai ci voglio provare Magari spacchiamo tutto Ma magari ci divertiamo anche Proviamoci Allora questa è la mia postazione Qui c'è il joystick Se io tengo il joystick in mano Vuol dire però che Oh no Come facciamo ora? Inna non mi lasciare Abbiamo perso se no No Come possiamo fare? Dobbiamo Tenere il joystick insieme No 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 Non c'è per forza Dobbiamo fare così Dobbiamo giocare in questo modo Ok Daniel è stata capace contro Vai Figurati con una Guarda lo schermo però Come faccio a giocare da solo? E che succede se premo questo? No No Abbiamo perso Va bene Facciamo che giocare Non è proprio la migliore cosa La mia maglietta è verde Come lo schermo dietro Basta Mi sto soffando Fa troppo caldo Andiamocene via Torniamo giù forse Aspetta Torniamo giù Vuol dire di nuovo scale Ok Andiamo 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 Forse scendere è un pochino più complicato Non mi lascia Scusa scusa Aspetta ma io ora Come scendo? Vabbè vai vai ci provo Ok Non fatelo a casa Forse ti abbraccio così Ecco Ti abbraccio così Ok Mi sta difficile Attento alla testa Ok Ok Dai Poteva andare peggio no? Sì è vero Poteva andare molto peggio Dai Ma che mi scappa tanto la pipì Ah è vero Ma tu non l'hai fatta alla fine Mi sa che ci dobbiamo arrendere Ragazzi Mi scappa tantissimo Dai vai Vai Ho smesso di abbraccio Mi hai detto lascia Mi ha detto mi scappa tantissimo E ho capito Se no ti saresti lamentata Ogni minuto io sarei diventato pazzo Quindi facciamo così E' meglio E' colpa sua se abbiamo perso Sappiatelo E ne vado Sì sì certo Colpa mia In questo momento Compariranno sullo schermo di video Che sicuramente non avete visto In realtà Non è arrivata neanche la notte ancora Abbiamo resistito Praticamente neanche 24 ore Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E dite a Nina di fare pipì Prima di iniziare le challenge Ciao Ciao